Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video volevo informarvi di una nuova notizia riguardo l'aggiornamento del social club che dovrà rilasciare la Rockstar Games come ha confermato il modder o hacker Ted's Fans. Se non avete visto il video che ho caricato riguardo questa notizia lo lascerò in descrizione, in descrizione troverete il link di quel video così che potrete andarlo a guardare. Il modder o hacker Ted's Fans ha rilasciato questo nuovo post che in italiano significa un nuovo aggiornamento per pc, solo un programma di avvio barra social club è per questo che Cabeta è stato aggiornato di recente. Cabeta sarebbe il sito di cui vi ho parlato nel video precedente che troverete in descrizione. Di questo post che ha rilasciato questo modder dobbiamo sottolineare la frase è per questo che Cabeta è stato aggiornato di recente. In descrizione nel video precedente ho lasciato il link della fonte, se voi cliccate sul link della fonte vi aprirà un'immagine e se guardate su Last Record Update che significa ultimo controllo aggiornamento è stato il primo febbraio. Era 8 ore fa fino l'altro ieri, ovviamente adesso che sono passati quasi due giorni sarà di più di 8 ore fa ovviamente, però comunque sia è stato l'1 febbraio. Ciò significa che la Rockstar ha testato barra controllato il nuovo aggiornamento del social club che dovrà rilasciare ovviamente per evitare possibili bug e problemi all'interno del sito insomma, come giusto che sia. Non sappiamo ancora la data in quanto la Rockstar per il momento è zitta, non ha ancora annunciato nulla, però sicuramente a breve ne sapremo di più. Ovviamente se ci saranno informazioni ve le porterò sempre sul canale, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network. E da Orkover ritorno e ci vediamo al prossimo video, bella!